Salve ragazzi e bentornati sul canale finalmente signori siamo su minecraft e siamo sugli snapshot ragazzi mi ero perso uno snapshot quindi in questa puntata vedremo due snapshot il 21v03a e il 21v05a quindi due snapshot in un unico video che secondo me ci sta tantissimo non perdiamo tempo raga perché ci sono un sacco di cose da vedere e iniziamo subito a vedere le novità di questo keven cliff update ragazzi minecraft 1.17 è alle porte allora come vedete è uno snapshot lagosissimo ragazzi è buggato in un modo esagerato quindi se dovete usarlo nei vostri mondi fate prima il backup perché è buggatissimo io sto andando a 10 fps una roba del genere non lo so hanno aggiunto la prima cosa i licheni ragazzi questo blocco qua che è praticamente un glow lichen cioè dei licheni luminosi effettivamente sono luminosi vi faccio vedere li possiamo trovare naturalmente nelle grotte ora io cercherò di trovare una grotta ed ecco che abbiamo trovato un lichene vedete praticamente fanno una luce di 6 se non sbaglio vediamo un po' si fanno una luce di 6 quindi è una luce molto molto bassa che permette comunque lo spawn dei mob è un blocco molto carino molto decorativo soprattutto perché si può mettere praticamente su tutti i lati di un blocco lo possiamo mettere sopra di lato sotto insomma è una cosa abbastanza carina ci sta ci sta e può spawnare può essere droppato anche con la bommil vi faccio vedere ora mi prendo un po' di bommil in questo modo vedete subito lo possiamo far spreddare da tutte le parti molto molto caruccio torniamo lentissimamente in superficie mamma mia sto mondo mi crasha mamma mia raga come lagga mamma mia come lagga è proprio il bug questo è proprio il bug raga ok siamo qua allora se ci mettiamo in modalità di sopravvivenza vi faccio vedere in questo modo qua non possiamo raccoglierlo perché lo distruggiamo abbiamo bisogno di avere delle cesorie ora mi prenderò delle shears vediamo dove sono she 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 eccole qua ci rimettiamo ovviamente in modalità di sopravvivenza e proviamo a raccogliere questo blocco vedete così lo possiamo raccogliere e lo possiamo ripiazzare molto carino come blocco molto interessante e secondo me può avere anche degli aspetti decorativi abbastanza carini ma un'altra cosa che hanno aggiunto raga è questo abbiamo un nuovo mob la glove squid una cosa molto molto figa io adesso farò una pozzetta d'acqua perché qua non ho acqua ecco qua esponiamo la nostra glove squid è questa qua allora questa glove squid è luminosa ma non perché fa luce è luminosa proprio lei adesso io metterò notte quindi mettiamo time set night ci metterà un po' per mettere notte no ci ho messo subito notte vedete è un mob molto luminoso che si vede anche se ci allontaniamo di un bel po' molto molto carino ma la cosa bella di questa squid ovviamente raga non è non è il fatto che sia semplicemente luminosa intanto rimettiamo giorno perché non si vede niente questi intanto stanno morendo comunque è molto carino come mob mi piace sponiamo un axelot ragazzi perché gli axelot adesso ovviamente essendo dei mob molto aggressivi vanno ad attaccare le nostre squid quindi le attaccheranno tantissimo e le ammazzeranno una volta che li ammazzano ragazzi ci droppa questo la glove ink sack questo oggettino qua molto molto bello e vi faccio vedere a che cosa serve questo glove ink sack c'ha due utilizzi molto fighi allora iniziamo a prendere un cartello io prendo un cartello che ne so questo ok prendiamo anche dell'inchiostro e prendiamo del colorante che ne so un green ok facciamo mettiamo il cartello qua scriviamo ciao a tutti ok e coloriamo questo di verde vi faccio vedere io adesso ci metto il colorante come vedete la scritta è diventata più luminosa se invece ci rimetto l'inchiostro normale la sacca di inchiostro mi torna del colore suo normale facciamo un'altra prova con un colorante che ne so rosso in questo modo facciamo così lo andiamo ad illuminare come vedete è molto è molto più visibile anche di notte molto figo e con questo invece lo togliamo ma non è questa la cosa bella la cosa bella ragazzi sono questi qua sono degli item frame item frame molto figli ora io prendo un item frame eccolo qua così e semplicemente usando una crafting table metto l'item frame metto al suo interno un pezzettino di glow in sac e praticamente c'ho il glow item frame che cos'è è questo oggettino qua molto carino che praticamente illumina le cose che ci mettiamo dentro ad esempio se io qua dentro ci mettessi un elmetto così di diamante come vedete rispetto a un item frame normale che adesso cercherò di prendere tantissimo lo prendo da qua che faccio prima come vedete questo risulta essere più illuminato ma la cosa bella raga è per le mappe se io prendo una mappa prendiamo delle mappe no facciamo delle mappe vi faccio vedere una cosa molto figa allora facciamo svuotiamoci un attimino l'inventario e iniziamo a fare delle mappe della zona in questo modo qua abbiamo fatto le nostre mappe ora io voglio mettere una bella mappa gigante qua per terra no in questo modo così mettiamo le nostre mappe qua sotto in questo modo e questo è il risultato che otteniamo ok questa è la mappa normale classica che per illuminarla solitamente basta mettere delle torce però l'illuminazione viene male perché insomma non si riesce a illumina tutto invece guardate che succede se io quelle stesse mappe le metto qua su raga fanno un effetto totalmente strafigo ma strafigo veramente guarda adesso le metto tutte qua intorno così le ho messe tutte guardate la differenza tra quella mappa schifosa e questa mappa come vedete in questo modo abbiamo il sistema di avere delle mappe bellissime illuminate molto dettagliate che rispetto a questa è uscito un gatto ciao gatto che rispetto a questa si vede molto meglio insomma secondo me ci sta tantissimo rimettiamo di nuovo giorno e andiamo a vedere le altre novità perché raga non abbiamo finito qua con le novità un'altra piccola novità riguarda questo blocco qua il dripstone block che adesso si può craftare come si crafta usando appunto questo il pointed dripstone infatti se noi andiamo in una crafting table abbiamo sti cosi le mettiamo così possiamo craftare appunto un dripstone block non so che che utilità abbia ovviamente l'inverso non si può fare non lo possiamo scraftare però volendo se abbiamo bisogno di sto blocco usando appunto le stallattiti o le stalagmiti lo possiamo craftare queste erano tutte le novità dello snapshot 21v03a adesso andiamo a vedere quelle del 21v05a che sarebbe l'ultimo snapshot più recente che è quello ricco raga ma ricco ricco di contenuti iniziamo subito con questo blocco il rooted dirt ragazzi la terra con le radici in poche parole questo blocco sarà un blocco dell'hash caves praticamente lo dovremmo trovare sotto degli alberi sotto gli alberi di azalea e sotto questi alberi troveremo anche quest'altro blocco qua decorativo molto carino che sono le hanging roots cioè delle radici che praticamente dovrebbero rappresentare le radici dell'albero che sta quassù qua immaginatevi che ci sta un altro albero che ne so facciamo così non ce l'ho ancora le azalee però immaginate che qua c'è quest'albero qua qua sotto c'è sto blocco e sotto questo blocco si troveranno tutte le radici dell'albero che praticamente vanno nel terreno molto figo come blocco decorativo molto bello mi piace tantissimo ma andiamo avanti perché abbiamo un sacco di altra roba raga abbiamo dei cespugli di azalea non sono arboscelli sono cespugli sono proprio blocchi decorativi raga guardate sono altri con un blocco molto caruccio molto bello sono cespugli di azalea fighissimi non si possono mettere uno sull'altro come potete vedere sto cercando di metterlo ma non si può mettere e li abbiamo in due varianti abbiamo questo qui che è la zalea oppure questo che è la flowering azalea cioè la zalea fiorita molto carino come blocco secondo me questo mamma mia come decorazione raga ci sta proprio da dio guarda è proprio bello perché sotto vedete c'è il gambettino perché è proprio un blocco cioè è un piccolo cespuglio è fighissimo questo è un blocco decorativo veramente ma veramente figo secondo me sarà bellissimo usarli per le nostre costruzioni oltre al cespuglio hanno aggiunto anche queste che sono le foglie della zalea la zalea leaves e poi abbiamo ovviamente la flowering a zalea leaves quindi abbiamo foglie normali di azalea che sono queste qua e abbiamo le foglie fiorite quindi voi immaginate gli alberi di azalea raga che ci avranno ste cose qua belle fiorite quindi finalmente in minecraft avremo degli alberi fioriti che più o meno dovrebbe essere una roba del genere più più o meno voglio sto a fare un albero schifoso ma voi fate finta che sia bello guardate quanto è carino andare in giro con tutti questi alberelli guarda questa questa diciamo che è una zalea guarda che figa guarda chissà se fioriranno in base al bioma in base alla stagione non lo so non lo so però sicuramente è una cosa estremamente interessante ma andiamo avanti perché abbiamo queste cose qua raga queste qua praticamente adesso vi faccio vedere queste si chiamano se mi prende f3 mamma mia quanto è bagato sto coso queste sono le cave vines head signori sono praticamente delle rampicanti che si trovano all'interno delle delle grotte le troveremo sottoterra non si possono craftare ma si possono farmare utilizzando appunto il frutto che ho in mano cioè le glow berries cosa sono le glow berries le glow berries sono appunto il frutto che ci danno ste cose qua ma perché si chiamano glow perché ragazzi anche sta roba qua è luminosa cioè raga è tutto illuminato qua ora rimettiamo di notte guardate guardate che bella luce che fa quanta luce fa allora fa addirittura 12 di luce tanta roba 12 raga molto molto carino ovviamente le possiamo semplicemente raccogliere in questo modo come si raccolgono le bacche molto semplicemente così e come vedete la luce è finita con la nostra bombi le possiamo far rispuntare e fanno veramente un botto di luce sono molto carine in teoria le volpi dovrebbero mangiare questo frutto quindi le volpe dovrebbero mangiare le glow berries e perciò potremmo fare delle farm anche di questo frutto molto molto bello ovviamente si possono anche mangiare la è un cibo a tutti gli effetti con l'unica differenza che è luminoso voi pensate che bello farvi una bella piantagione tutta sta roba illuminata cioè figo è figo mi piace un sacco la roba che sta uscendo in questo snapshot ragazzi è veramente molto figa ma rimettiamo il giorno e andiamo a vedere altre cose ragazzuoli adesso finalmente appena arriva il giorno finalmente abbiamo le small drip leaf questo piccolo arboscello qua che possiamo piantare dove si può piantare questo non si può piantare da nessuna parte se non in acqua oppure su della clay sull'argilla vedete cosa sono le small drip leaf praticamente sono le piantine che ci fanno questa roba qua vedete la big drip leaf se vi ricordate questo è il blocco nuovo che hanno aggiunto che praticamente se voi ci state sopra dopo un po la pianta si accartoccia e voi cascate finché dovete poi dovete aspettare che si riprende e ci potete risaltare sopra questo effetto si annulla se rimanete shiftati in questo modo oppure se quando inizia ad abbassarsi fate un salto vedete lei si ricalma con la bombi possiamo farla crescere quanto vogliamo quindi possiamo andare a creare una sorta di scaletta incredibile e questo blocco qua si può distruggere con un colpo di freccia però dovete puntare esattamente alla parte finale cioè la big drip leaf vedete distruggete tutto se distrugge tutto e siamo contenti se sparate sulla sul gambo non succede assolutamente nulla questa è una novità molto caruccia ma andiamo anche a vedere altre cose raga perché abbiamo un nuovo blocco il moss block muschio guardate che bella texture che c'è sto blocco anche questo sarà un blocco che troveremo nelle caverne molto molto carino ma soprattutto con questo blocco possiamo fare una cosa molto figa è come se fosse della lana ragazzi guardate io vado qua metto due blocchi di moss block e mi esce un moss carpet cioè un tappeto di muschio che è molto figo e funziona esattamente come un tappeto quindi possiamo mettere uno sull'altro in questo modo qua molto molto bello insomma stanno facendo un bel po di roba un bel po di roba e poi abbiamo lui guardate quanto è figo questo lo sport blossom è praticamente un fiore che cresce nelle caverne sul soffitto molto bello guardate quanto è carino e bellissimo non può essere piazzato a terra di lato deve essere piazzato semplicemente sul soffitto secondo me ci sta tantissimo e questo come elemento di decorazione raga secondo me farà la sua porca figura ma tantissimo proprio poi andiamo perché abbiamo altre novità abbiamo lo stone cutter che adesso ci permette di lavorare il rame vedete adesso se mettiamo un blocco di rame automaticamente ci da tutti i blocchi che possiamo fare è una cosa utile dovevano implementarla e l'hanno implementata altra novità che riguarda il rame quindi il copper che hanno cambiato il nome dei vari blocchi vedete adesso qui è ossidato esposto insomma in base al tipo di ossidazione cambia il nome ultima cosa che hanno fatto per quanto riguarda il nostro rame è che adesso può essere droppato anche da un affogato io qua ho messo la pozza d'acqua con uno zombie ma è morto ecco praticamente adesso ammazzando gli affogati oltre a poter avere un lingotto d'oro ci potrebbero droppare anche un lingotto di rame quindi un lingotto di copper un'altra cosa che hanno inserito per le creative è che adesso il tempo di ossidazione del lingotto dipende dal tick del gioco infatti se noi andiamo a fare game rule random tick speed che di solito è a 3 3 è il valore standard ma lo mettiamo che ne so a mille in teoria il nostro rame dovrebbe ossidarsi molto più velocemente magari forse è meglio aumentare mettiamo 10.000 ecco si sta ossidando abbiamo messo a 10.000 ragazzi adesso dovrebbe ossidarsi velocemente vedete questo già si è ossidato pure quello si sta ossidando si sta ossidando tutto piano piano quindi il primo stadio di ossidazione l'ha beccato adesso dovrebbe arrivare il secondo eccolo qua vedete come si ossida velocissimo molto molto interessante questa cosa così in creativa si possono fare cose interessanti rimettiamo la velocità standard che è d3 e andiamo a vedere le altre novità che hanno aggiunto allora altre novità riguardano lui ragazzi lo skulk sensor in poche parole hanno aggiunto altri suoni che questo blocco può percepire come vedete li percepisce sempre con il suo delay quindi non potete spammare l'ha percepito bisogna aspettare che si disattiva e lo ripercepisce molto carina come cosa anche perché questo blocco è veramente bello io lo adoro tantissimo anche perché mi permette di fare la redstone wireless è una cosa molto figa un'altra novità invece riguarda il powder snow questo qua ragazzi questo blocco il powder snow block che sarebbe la neve farinosa chiamiamola così quella che ci possiamo passare dentro e prendiamo l'effetto di congelamento è roba brutta hanno fatto in modo che può interagire con un pistone appiccicoso vedete adesso il pistone appiccicoso la può spostare ed è una cosa interessante considerando che se i mob ci finiscono dentro accusano tra virgolette l'effetto di questa cosa poi andiamo a vedere un altro meccanismo che hanno introdotto è che se noi tiriamo una freccia infocata attraverso questo blocco la freccia passa ma in teoria dovrebbe spegnersi non si spegne forse perché sono in creativa fatemi provare un attimino una cosa vediamo se in sopravvivenza si spegne ok in sopravvivenza si spegne meno male altra cosa che adesso hanno aggiunto è che se noi prendiamo uno scheletro e lo scheletro affonda qua dentro in teoria lo scheletro un po si dovrebbe trasformare in questo qua cioè nello stray eccolo qua si è trasformato oh bravo bravo con l'effetto di congelamento si trasforma in questo ragazzuoli con questa ultima cosa noi finiamo le novità di questo snapshot che era esattamente il 21v05a quindi abbiamo visto le novità del 21v03a e del 21v05a tutte quante insieme ci piacciono un sacco queste novità del nuovo cave and cliff update cioè di minecraft 1.17 speriamo di avere altre novità nel più breve tempo possibile e speriamo che queste cose vengano ovviamente inserite all'interno del mondo di sopravvivenza perché per il momento molte di queste cose non sono ancora accessibili se non tramite la creativa ragazzuoli io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like spolliciate condividete il video del canale sui vostri social e se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina io vi ricordo che sotto ogni video trovate tutti i link www.criamor.it per seguirmi su youtube sul sito viola dove stiamo facendo le live di gta rp con il nostro personaggio ivan ivanov della russia molto bello potete trovare anche il link di disco dove potete seguirmi e venire a chiacchierare con me la sera ogni tanto ci mettiamo in vocale facciamo due chiacchiere insomma trovate tutti i link che vi servono lì sotto detto ciao ragazzuoli io vi saluto vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo sempre sul canale per nuovi video e nuove live ciao ragazzi iscriviti al canale